Musica Avevano nascosto la sostanza stupefacente cocaina e marijuana anche dentro la cuccia del proprio cane, un rottweiler appunto da cui ha preso il nome l'operazione dei carabinieri di Arezzo che si è conclusa con sei arresti in Casentino. La banda, composta da sei persone, cinque uomini e una donna, avrebbe rifornito sia la piazza casentinese che quella retina. I sei sono stati arrestati alle prime luci dell'alba di questa mattina dai carabinieri del nucleo investigativo Aretino, grazie all'aiuto dei colleghi della compagnia di Bibiena di Arezzo e del nucleo Cinofili di Firenze. I militari dell'arma hanno così dato eseguzione ad un'ordinanza applicativa di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Arezzo nei confronti dei sei ritenuti responsabili a vario titolo di detenzione, spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e detenzione illegale di armi e munizioni. L'operazione, coordinata dalla procura di Arezzo, ha visto indagati cinque uomini, di cui uno di origini albanesi e una donna, li è tracompresa tra i 30 e i 40 anni. Le indagini portate avanti dai militari del nucleo investigativo di Arezzo erano partite nel maggio 2016. I militari avevano così ricostruito i ruoli che sei avrebbero rivestito all'interno del gruppo. Secondo gli investigatori, a fornire cocaina e marijuana sarebbe stato il soggetto albanese, mentre un casentinese avrebbe finanziato gli acquisti e si sarebbe poi occupato di organizzare la rivendita, supportato a sua volta dagli altri componenti del vero e proprio sodalizio criminale.